Il palermo prosegue questo pomeriggio la preparazione in vista della partita di domenica contro il Chievo. Nella giornata di ieri, Bolzoni e Morganella hanno proseguito l'attività di riattivizzazione, mentre Giurgevic si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti e continua la riabilitazione, assente Luca Rigoni per il decorso post-operatorio. Dalla propria pagina di Instagram, il centrocampista del palermo Luca Rigoni fa il punto della situazione dopo l'intervento chirurgico dovuto alla frattura scomposta dello zigomo rimediata contro l'Empoli. Ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, è andato tutto bene. Sono uscito oggi dall'ospedale di Milano con la mia nuova mascherina, grazie a tutti. Questo è il post del centrocampista del Palermo. Sinicia Angelcovic e Ashraf Lazar sono stati convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni internazionali riguardanti le qualificazioni agli europei del 2016 e mondiali del 2018. Angelcovic giocherà contro l'Ucraina nelle sfide del 14 e del 17 novembre, mentre Lazar sarà impegnato contro la Guinée equatoriale il 12 e il 15 novembre. Sarà Maurizio Mariani di Aprile a dirigere il match Palermo-Chievo, incontro valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A in programma domenica 8 novembre alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Valeriani di Ravenna e Filippo Melli di Parma, arbitri addizionali Andrea Gervasoni di Mantua e Daniele Minelli di Barese. Per tutte le altre notizie stadionews.it Il fischietto laziale sarà coadiu. Il fischietto laziale sarà coadiu. Grazie a tutti.